. Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 22 agosto 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo acquario. Due cuori, una capanna. La formula due cuori, una capanna non tramonta mai, almeno per romantici del vostro calibro con la testa tra le stelle e i piedi su qualche strada immaginaria tra le vie che si intrecciano nel mondo. Pochi soldi in saccoccia lamentano la Luna e Saturno nella vostra seconda casa, ecco lo scotto da pagare per avere un cuore ricco, parola di Venere minimalista che fronteggia quei due e ricordando loro che per un acquariano la materia è l'ultimo dei pensiero. Ora più che mai, resi grintosi e disinvolti dalla coppia Giove-Marte nel segno amico dei gemelli, in pratica vento su vento, al primo posto ci mettete il cuore, nel senso aperto in puro stile hippie, della casa senza persiane né serrature, tutto aperto a chi vuole entrare, sia esso un raggio di sole, un randaggino in cerca di un tetto o delle persone sulla vostra stessa lunghezza d'onda con le quali analizzare le cose del mondo e immaginare viaggi stratosferici nell'universo. Sul lavoro giornata impegnativa, ma la serata ancora profumata d'estate è tutta vostra per rivedere amici, raccontarsi viaggi fatti e incominciare a ipotizzare i prossimi, il treno o l'aereo nella vostra testa non stanno mai fermi, basta dargli voce perché si mettano in moto. E con loro naturalmente anche voi. Quadro di media positività per voi oggi. La luna è ospitata nel segno amico dell'ariete e vi può rendere più lucidi e attenti di quanto abitualmente già non lo siate. Urano tuttavia vi contrasta, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade, dovrete stare in guardia e vedere dove mettete i piedi questa giornata d'estate, le distrazioni sono dietro l'angolo e la testa può addirittura stare per aria. Giornata no questo giovedì agostano per voi, a dichiararlo subito la luna imbronciata nella vostra seconda casa insieme a Saturno restrittivo e a Nettuno volatile, indizio che i pochi bigliettoni rimasti oggi se ne vanno definitivamente via in multe o bollette da pagare. Contrarietà anche da Venere molto morigerata ma un filo delusa in amore dal vostro astro guida urano in quadratura, da Mercurio chiacchierone mai stabile all'opposizione. Gli unici a farvi buon gioco Marte e Giove sportivi e ancora pieni di spirito vacanziero, pronti a ricordarvi che nonostante i malumori della Dea dell'Amore siete circondati di persone affettuose che vi vogliono bene. Amore ed Eros Il partner, i figli, gli amici, di gente intorno ne avete parecchia, magari non vi fanno regali e nemmeno complimenti, motivo per cui a volte dubitate del loro coinvolgimento, ma qui vi sbagliate. Vi amano sinceramente e se nel momento del bisogno sarebbero pronti a gettarsi nel fuoco per voi. Semplicemente non amano ripetere come pappagalli le stesse frasi di circostanza, le parole d'amore delle canzoni, nemmeno voi del resto. Gli affetti si misurano dai fatti, scaramucce in famiglia o tra vicini ma questa non è una novità, caratteri e generazioni diversi non vanno facilmente d'accordo, doppiamente con teste calde come la vostra. Dal leone Mercurio in aspetto contrario specie se appartenete alla terza decade aquariana, vi invita a godervi in leggerezza il flirt, la seduzione fine a se stessa, la voglia di sapere di poter intimamente conquistare qualcuno. Il sole, pure nel segno caloroso del leone, a voi dissonante, vi fa pensare ai sentimenti seri e corrisposti, che consentono da parte vostra un impegno costante e la necessità di dedizione esclusiva. Giornata sentimentale ambigua. Cosa sceglierete infine? Lavoro e denaro? Di lavoro oggi parlate poco e malvolentieri, lo stesso vale per le finanze, quel buco nei risparmi del quale vi vergognate un po', ma ormai è fatta, impossibile mentire. Vorrà dire che vi dovrete rimboccare le maniche per recuperarli, soprattutto se vi siete indebitati per compare casa o per ristrutturarla e ora le erate chi le paga? Inutile sperare nella roulette o nel poker, vi divertite finché si tratta di giocare a caramelle, ma quando sul tavolo verde passano i bigliettoni. Nelle vostre tasche non rientrano mai. Belle letture ancora in spiaggia o in pineta, se avete da studiare per preparare esami universitari o test d'ingresso è il contesto giusto, fuori dalla città tentacolare e surriscaldata. Meglio ancora se la maggior parte degli amici se ne è tornata a casa, meno occasioni di distrazione, meno chiasso. Se svolgete una professione che ha a che fare con la comunicazione, il giornalismo, la pubblicità, siete pressati oggi da varie sollecitazioni esterne, specie se siete nati in febbraio. Non si escludono anche imprevisti che vi possano trovare lievemente impreparati. È opportuno ordinare, con pazienza, tutte le fasi che la vostra attività richiede e non lasciarvi frastornare dalla confusione o, peggio, dalla paura di non farcela. Benessere. Sportivoni sempre, vi piace muovervi, gareggiare, mostrare la vostra potenza muscolare, ma soprattutto la finezza del vostro ingegno. È proprio per mantenervi agili e leggeri che a tavola mangiate pochino, anche se sotto sotto l'appetito non mancherebbe resistere a certi profumini poi. Diventa davvero difficile. Insonnia per chi è già rientrato in città e continua a soffrire il caldo come in pieno luglio, il surriscaldamento non è una fola, c'è e peggiorerà di anno in anno. Se non si può cambiare vita, auto, casa o continente tanto vale farsene una ragione. Denaro. Il lotto fa al caso vostro. La luna bella vi suggerisce numeri e combinazioni numeriche fortunate. Con anche Plutone nel vostro segno potreste scoprire che vi piace tentare la fortuna al gioco. Specie se siete nati in gennaio. Per lei, al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti cantava Battisti, un veggente, anche i vostri hanno subito la stessa sorte, mentre voi come lui sognate cieli immensi. Per lui, sette, sette e sette fanno ventuno cantava Gaber nella sua famosa porta romana, arriva la volante e non c'è nessuno. Giusto, se combinate qualche mattana siate almeno abbastanza accorti da non farvi beccare, perché si sa, con l'istituzione l'acquario ha sempre un cattivo rapporto. Colore delle emozioni, indaco. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno, sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 5, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se lo trovi interessante e utile, non dimenticare di cliccare sul pulsante mi piace. Buona giornata.